Musica Benvenuti al TG10, un'ampia pagina del telegiornale, oggi la dedichiamo alla giornata per dire no alla violenza sulle donne, numerose a Gela le iniziative coinvolte scuole ed associazioni all'Istituto Salvatore Quasimodo presenti i componenti del Comitato Pari Opportunità, l'Ordine degli Avvocati ed un magistrato del Tribunale. Le Pari Opportunità incontrano la scuola alla parità antidoto alla violenza. Appuntamento oggi all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco. L'iniziativa porta alla firma dello stesso Istituto, dell'Ordine degli Avvocati e del Comitato delle Pari Opportunità. Oggi è una giornata simbolica che si descrive nella giornata mondiale contro la violenza della donna, figure come Tina Anselmi o Franca Viola o il percorso evolutivo legislativo che ha portato alla parità formale tra uomo e donna, sono percorsi importanti. Quindi vogliamo che questa consapevolezza, questa parità raggiunta dopo tante battaglie e tante lotte sia patrimonio dei ragazzi, degli studenti, in modo che questa parità possa essere un antidoto serio contro la violenza, contro la piaga sociale del femminicidio. Il titolo che è stato dato all'iniziativa La Parità, antidoto alla violenza, pensa che colga a pieno lo spirito di questa iniziativa, perché in realtà l'azione educativa, soprattutto a partire dalla più tenera età, e quindi dai ragazzi di scuola elementare e di scuola media, sia l'unica vera possibilità di promuovere la parità di genere. Ed è la sola la parità di genere a poterci, a poter prevenire appunto la violenza nei confronti delle donne. Tra i relatori anche Gioacchino Marletta, consigliere dell'Ordine degli Avvocati, Paola Greco, componente del Comitato Pari Opportunità ed il magistrato Flavia Strazzanti. La parità è presente, anche se in alcune situazioni familiari purtroppo tende un po' così a svanire. E' difficile allora ripristinarla, questo dovrebbe essere il compito del giudice, ma più ancora la società e soprattutto i membri della famiglia dovrebbero aderire a questo modello, quello della parità, farlo proprio al di là della cogenza della legge e dell'assanzione prevista dalla legge per il rispetto di questa regola. Noi abbiamo deciso di portare a scuola due esempi positivi di donna. Tina Anselmi, l'onorevole Tina Anselmi, che è da poco scomparsa, per cui è anche un omaggio a questa grande donna, e Franca Viola, la prima donna che si oppose al matrimonio riparatore. Dunque sono due figure di donna che assolutamente hanno segnato la storia dell'emancipazione femminile in Italia. Riteniamo che siano due esempi positivi da portare ai giovani per insegnare anche alle ragazze, che saranno le donne di domani, di avere consapevolezza di se stesse, della storia dalla quale provengono e quindi del percorso che hanno fatto le altre donne per raggiungere oggi ad avere questa parità e questi diritti di cui godiamo. L'emancipazione è stato il frutto di una conquista che si è realizzata nel corso dei secoli. Ultimamente, negli ultimi 50-60 anni, la società italiana si è notevolmente evoluta in questo senso e di pari passo si è anche registrata una costante, lenta, ma costante evoluzione della legislazione sia nazionale che europea. E tutte le donne che fanno parte del Consiglio Comunale di Gela si sono unite al di là delle differenze di schieramento politico, presentandosi in aula con una tenuta scura e con un fiore rosso. Hanno ricordato l'istituzione dello sportello antiviolenza Angelas e allo stesso tempo il numero esiguo di segnalazioni arrivate. Sarebbe necessario, hanno detto, creare una rete di protezione che permetta alla donna che denuncia di potersi allontanare dal luogo diventato teatro delle violenze. Il gruppo consigliare femminile è formato da Sandra Bennici, Sara Bonura, Francesca Caruso, Maria Pingo, Sara Cavallo, Romina Morselli, Anna Comandatore, Virginia Farruggia e Angela Di Modica. E alla Liceo delle Scienze Umane le studentesse hanno scelto di dire la loro usando il linguaggio dei giovani. Non convegni, tavole rotonde, relazioni e presentazioni di libri. Non c'erano illustri relatori oggi alla Liceo delle Scienze Umane. Le studentesse hanno scelto di dire la loro nella giornata contro la violenza sulle donne usando il linguaggio dei giovani. Così nell'aula magna della scuola hanno portato in scena uno spettacolo interamente ideato e realizzato da loro, esprimendo così la loro sensibilizzazione al fenomeno della violenza contro le donne. Canti, balli, monologhi e recitazioni hanno dato voce agli studenti contrari ad ogni violenza. È giusto che anche al Liceo delle Scienze Umane, al Liceo Classico, al Liceo delle Scienze Umane dove c'è una prevalenza femminile, gli studenti acquisiscano consapevolezza dell'importanza delle relazioni umane, di modo che ciascuno sappia difendersi, ciascuno acquisisca quelle modalità comportamentali che poi non favoriscano il tentativo di violenza, la prevaricazione, l'abuso, le forzature. Noi oggi contiamo molto su questo spettacolo prodotto direttamente dalle ragazze del Liceo delle Scienze Umane perché diventa un momento importante di presa di consapevolezza. Le ragazze utilizzando diversi linguaggi espressivi, video, musica, canto, recitazione, hanno appunto illustrato la violenza contro le donne e di manifestare il proprio dissenso. E sebbene oggi questo fenomeno sia in forte crescita, bisogna ancora contrastarlo e arginarlo. E in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Gela, la libreria Mondadori e l'Istituto Scolastico Ettore Majorana organizzano però oggi, domani e domenica, un'iniziativa che si terrà nei locali di Palazzo Ducale. Alle 16.30 di oggi è prevista l'inaugurazione della mostra denominata Letteratura e Arte. Una tavola rotonda dal titolo Pari di Sensibilità è prevista per domani alle 11 nell'aula magna dell'Istituto Commerciale Luigi Sturzo. Sempre domani al Teatro Eschilo alle 20.30 si terrà lo spettacolo, l'urlo dei silenzi, artisti contro la violenza sulle donne. Sono numerosi gli attori che saliranno sul palco. La regia è affidata a Maurizio Nicastro hanno aderito all'iniziativa numerosi club service. E oggi nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo si è tenuto un incontro dal tema donne e legalità. Sono intervenute le archeologhe Serena Raffiotta e Alessandra Cilio. Sentiamole. Si tratta di un vis-à-vis tra presente e passato, tra donne del mondo antico e donne moderne per mostrare come nel passaggio di secoli, di millenni e di culture in fondo la donna sia sempre stata il thread union tra i popoli e naturalmente è anche un modo per raccontare come molte donne, soprattutto donne contemporanee siano riuscite ad affermarsi nelle loro professioni, nelle loro attività attraverso l'ostinazione e la passione che ci caratterizza. E tra queste naturalmente è presente anche una giovane protagonista gelese, Angela Catania che sta frequentando un dottorato a Sheffield e dentro al documentario stesso viene raccontata una Gela molto diversa dallo stereotipo che la vede spesso protagonista degli episodi di cronaca. Il mio contributo in questa manifestazione dedicata al tema della donna e legalità fa riferimento al recente rimpadro di un reperto archeologico trafugato da Morgantina il sito archeologico poco distante da Gela che negli anni 70 è stato saccheggiato dai tombaroli e durante questi saccheggi è stato portato alla luce e disperso nel mercato antiquario il reperto noto come Tessa di Ade, una Tessa maschile di divinità raffigurante proprio il dio degli inferi. Questo reperto di recente lo scorso gennaio è rientrato in Italia e il suo rientro è un'affermazione della legalità contro i crimini, contro il patrimonio archeologico. La storia si ricongiunge al tema di donne e legalità perché il rimpadro del reperto è stato reso possibile grazie all'attività di ricerca di due archeologhe, due donne. Io con un mio studio dedicato a Morgantina e l'archeologa Lucia Ferruzza con uno studio dedicato alla Tessa di Ade quando si trova esposta negli Stati Uniti nella collezione del Polghetti Museum di Valibu. La nostra scuola come sempre è sensibile a tutti gli avvenimenti importanti che possono riguardare il nostro territorio e soprattutto in questo momento è questo tema che riguarda la violenza delle donne che appunto è a livello non soltanto italiano ma mondiale e quindi non hanno sicuramente voluto mancare a questo appuntamento per organizzare oppure, come è capitato anche altre volte, cogliere l'invito di professionisti e di gente che si occupa da diverso tempo per questo per sensibilizzare sempre il problema mettere in risalto diciamo quello che succede e quindi il rispetto della donna e rendo conto di tutte le tematiche che riguardano questo importante problema. Oggi il nostro istituto ha voluto diciamo porre in atto un progetto che fa parte dell'ampliamento dell'offerta formativa del nostro istituto, donne e legalità un tema che sta molto a cuore a tutto il corpo docente, a tutti i nostri ragazzi perché intende affermare appunto quello che è il concetto di legalità e urlare il nostro diciamo disappunto contro la violenza sulle donne. Verrà proiettato un film documentario, Taguna Keia, cose di donne che è stato diciamo prodotto dal regista Lorenzo Daniele e dalla moglie Alessandra Cilio che ha tanti successi e tanti premi ammietuto non solo in ambito locale ma anche in ambito internazionale. E anche quest'anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne le socie della sezione locale dell'Udi di Gela sono state impegnate in attività laboratoriali e formative di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne causa di terribili danni umani, relazionali, sanitari ed economici anche per le future generazioni. Siamo sempre più convinte, si legge in una nota della responsabile Udi di Gela, Giovanna Cassara che la violenza maschile sulle donne non sia un fatto privato né un'emergenza ma un fenomeno strutturale e trasversale della nostra società che può essere affrontato solo con un cambiamento culturale radicale. Perciò per combattere ogni pregiudizio millenario contro le donne auspichiamo un intervento legislativo volto ad incrementare i finanziamenti dei centri antiviolenza e l'istituzione di un fondo a favore degli orfani dei femminicidi. Sara Bonura e Maria Pingo, esponenti del megafono, hanno presentato una mozione affinché vengano concessi sussidi ed agevolazioni alle donne che denunciano di essere vittime di maltrattamenti pur rientrando nella cosiddetta categoria protetta rilevano Bonura e Pingo, alle donne che subiscono abusi non vengono riconosciuti sussidi e agevolazioni ma possono godere del diritto di inserimento in una casa famiglia o in un centro residenziale di assistenza. Pertanto le due consigliere del megafono chiedono di vincolare la somma di 100 mila euro nel bilancio di previsione 2017 da destinare a tutte le donne che denunciano violenza domestica e che si trovano in una condizione economica svantaggiata. Status del minore straniero non accompagnato è stato il tema dibattuto oggi nei locali della scuola Nicola's Green di Gela nell'ambito dell'anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU dei diritti dei bambini. L'incontro è stato organizzato dal Chivanese Club di Gela e dall'Istituto Comprensivo Don Milani. La preparazione alla realizzazione di questa giornata dedicata ai minori stranieri non accompagnati ci è parsa abbastanza reale, attuale e quindi da portare avanti per sensibilizzare i bambini e anche i ragazzini della scuola media a questo fenomeno che attualmente sta diventando un fenomeno di larga portata e che interessa un po' l'intero mondo. Volevamo interrogarci su quali sono i diritti dei bambini una volta che arrivano sul nostro territorio e quali sono le istituzioni che se ne devono fare carico sostanzialmente. Quindi ci rendiamo conto che il problema è abbastanza complesso, volevamo un attimino conoscere e approfondire un po' l'argomento per affrontarlo nella maniera più adeguata possibile. La Guardia Costiera italiana e le cabine di porto sono impegnate ogni giorno costantemente salvando vite umane a migliaia. Naturalmente non facciamo nel momento del SAR, del Search and Rescue, una distinzione tra minori e adulti. Noi andiamo a mare, scendiamo verso le coste libiche o altro per 80-90 miglia anche e poi quando troviamo questi migranti, queste persone che sono in seria difficoltà e quando è importantissimo riusciamo a trovarli vivi, che è la cosa a cui teniamo di più, li imbarchiamo sui nostri mezzi e li portiamo a terra. Una volta che sono a terra e per noi il nostro compito termina, se ne occupano le altre forze di polizia per gli smistamenti e i riconoscimenti. L'avvocato Ghetano Dharma, consigliere del Chivanis, ha relazionato sull'istituto dell'affido mentre Maria Vassallo, responsabile del centro Tu, come me, di Gela, sugli aspetti organizzativi di una casa famiglia e sulle esperienze vissute. L'istituto dell'affidamento è un istituto che cerca di garantire una famiglia e un momento di crescita sana all'interno di una famiglia e quindi potrebbe essere la risposta migliore per i minori stranieri non accompagnati. Gli aspetti organizzativi della mia casa famiglia è in primis fare inserire il minore nel comprensorio di Gela e di conseguenza in tutta l'Italia, la Sicilia in modo particolare. Poi per quanto riguarda l'organizzazione, certo, nella mia struttura abbiamo fatto diverse attività e con l'aiuto degli enti pubblici e dell'associazione private. Riesplode la protesta Gela contro la crisi occupazionale nell'area industriale della raffineria dell'Eni dove la riconversione green degli impianti ed il rilancio economico tardano a manifestarsi nelle dimensioni che erano state prospettate. Ieri sera un nutrito gruppo di lavoratori dell'Indotto ha presidiato l'aula consigliare del municipio durante la seduta del Consiglio Comunale. La Sise Civica ha sospeso i lavori per dare voce ai rappresentanti degli operai che denunciano il ricorso delle imprese appaltatrici di Enimed a mano d'opera esterna, cioè a personale assunto fuori dal bacino di crisi gelese. A fronte degli oltre 2.000 dipendenti del diretto e dell'Indotto espulsi per la chiusura della raffineria, finora hanno trovato occupazione solo poche centinaia di unità. Il Consiglio di Fabbrica e di sindacati confederali dei chimici e dell'energia che lamentano ritardi nella costruzione della green raffinerie si sono riuniti questa mattina per deliberare un pacchetto di ore di sciopero da attuare se l'Eni non accetterà il confronto sugli essetti organizzativi e sul rispetto del protocollo d'intesa. Un convegno dibattito dal tema Le donne vogliono sapere si trarrà lunedì 28 novembre alle 17 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Milani in Via Venezia 283 organizzato dall'Ados Italia e dal Movimento Rosa per la rinascita di Gela. relazionerà Giuseppe Di Martino, senologo all'ospedale Vittorio Emanuele previsti gli interventi di ginecologi, pediatri, neurologi ed odontoiatri. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del Tre Giornale, cominciano dall'unedì prossimo a Gela le iniziative per i vestaggiamenti per l'Immacolata Concezione, previsti per l'8 dicembre. Lunedì alle 16.30 è previsto lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone che annunceranno alla città l'inizio della festa. Le iniziative sono della parrocchia San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello. Vista la grande affluenza di ragazzi che si è manifestata per tutto il mese di novembre, i giovani democratici di Gela in collaborazione con l'Associazione Codici hanno deciso di prolungare di un altro mese l'attività dello sportello informativo bonus cultura che permette a tutti i neo diciottenni di potersi registrare e di usufruire dell'ingentivo dato dal governo qualora questi trovassero difficoltà nella procedura. Un servizio che è stato donato alla città in un momento in cui la scena politica sembra avere smesso di essere dalla parte dei cittadini per far largo ad una becera lotta alla poltrona affermano i membri del comitato promotore dei giovani democratici. Il bonus cultura di 500 euro rappresenta un vero e proprio ingentivo da parte del governo per i ragazzi che entrano nell'età adulta a consumare beni culturali. Lo sportello informativo sarà di Bito nella sede di via Empedocle 85 ogni venerdì dalle 17.30 alle 20. C'è anche un'email giovani democratici Gela chiocciolagmail.com E ora parliamo di calcio monta l'attesa per la sfida di domenica in Campania tra Cavese e Gela si sfideranno la seconda e la terza in classifica bisogna giocare senza assilli lo dice il portiere biancazzurro Antonio Vizzi Antonio Vizzi è un Gela che fila come un espresso tra vittorie consecutive nelle ultime tre gare addirittura neanche un gol subito a dimostrazione del fatto che è una squadra che ha una difesa rozzosa e ha parallelamente anche un attacco stellare perché ha realizzato ben sette gol adesso c'è un impegno arduo giocherete contro la Cavese che ci riporta in mente anche i fastidi una volta quando il Gela prese il volo per la C1 ti chiedo subito che partita ti aspetti e che partita sarà? Allora innanzitutto so il blasone di questa partita il blasone della Cavese ero piccolino quando ci fu quello scontro Cavese-Gela però ne parla non è una sfida molto sentita noi andiamo a Cava dei Tireni senza alcun peso naturalmente fra virgolette perché sappiamo tutti il valore della partita sicuramente fare un risultato in quel campo non è facile però darebbe una svolta al nostro campionato noi sappiamo che dobbiamo divertirci dobbiamo affrontare quella gara di domenica come tutte le altre domeniche e il risultato che verrà ci prenderemo sapendo che sicuramente non sarà una partita facile ma noi abbiamo i mezzi come l'abbiamo dimostrato abbiamo definito il big match vero e proprio della giornata che arriverà domenica prossima perché si affrontano la seconda contro la terza in classifica quello sicuramente sappiamo che è il match di cartello di giornata però sarà una domenica da vivere speriamo che sia una domenica positiva non sarà facile però non la carichiamo più di tanto noi perché sappiamo che dare meno importanza a volte può essere una cosa positiva però sappiamo che ci teniamo a fare bene sicuramente c'è una concorrenza leale con Moreno Saitta anche perché c'è una grande amicizia è normale questo sicuramente con Moreno non abbiamo nessun tipo di problema ci alleniamo ognuno cerca di fare bene giustamente io sono arrivato anche in ritardo i risultati sono dalla nostra parte non si può dire niente è normale che anche io voglio giocare ci mancherebbe però con la sana competizione sportiva pian piano sono sicuro che ci toglieremo entrambi delle belle soddisfazioni come lui si sta togliendo adesso ma io sono sereno e sono felice perché è un gruppo favoloso infatti i risultati comunque stanno dando anche merito a questo perché se non fosse stato per il gruppo che è coeso non avremmo dato certe risposte dopo anche la batosta subita a fratto abbiamo risposto subito con tre risultati consecutivi ma in tutta sincerità questo Gela dove può arrivare? questo Gela può arrivare può arrivare a divertirci a far divertire solo questo basta passare delle domeniche serene e poi vediamo cosa arriva io sono un tipo molto scaravanti che non mi sbilancio mai però l'importante è lavorare con serenità come stiamo facendo e i risultati si vede che stanno arrivando piano e piano si interaggio giovedì 8 dicembre in piazza Umberto I a Gela la manifestazione Corri con Papa Natale 2016 l'appuntamento è previsto per le 9.30 l'iniziativa è organizzata dalla soluzione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti in collaborazione con il comitato locale Unicef alla Croce Rossa la protezione civile e l'Iggio Soccorso è col patrocinio del comune l'evento rientra nel progetto di educazione alla salute sport ed ambiente che ha la finalità di promuovere l'attività motoria in arte evolutiva all'aperto per informazioni 347 5799 271 Welfi contro Ghibellini per conquistare lo scacco matto così gli alunni dell'istituto Martin Luther King vestiti da pedoni cavalli elfieri torri donne e re hanno dato vita in piazza Garibaldi a uno dei giochi da tavolo più antico e famoso una scacchiera vivente animata dagli alunni che si sono sfidati a colpi di moste strategiche accompagnata da parodie e rima recitate dai loro genitori un'iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Rosa Cartella da giunta al secondo anno e che vede più piccoli prendere parte anche ai tornei regionali e provinciali di scacchi oggi con il torneo di scacchi viventi si conclude la prima fase del progetto scacchi a scuola realizzato dagli alunni dell'istituto comprensivo Martin Luther King come dirigente scolastico sempre promosso il gioco degli scacchi a scuola per la duplice valenza ed equativa didattica e ludico sportivo il gioco degli scacchi si intreccia con varie svariate discipline molto importanti quali la storia la geografia la matematica la scienza la geometria e la letteratura questo lavoro di rendere questo centro il luogo identitario della città sta cominciando ad avere i frutti i bambini sono qui nel loro centro storico nella loro piazza pedonalizzata e giocano a scacchi che era stata una delle proposte iniziali che la mia amministrazione aveva fatto proprio perché gli scacchi rappresentano uno sport che sviluppa le capacità logico-matematiche ma una forte capacità di integrare tra loro le persone un gioco che sviluppa la logica educa il rispetto delle regole e aiuta i più piccoli a prendere delle decisioni immediate che ben si sposa con il percorso educativo come sottolineato dalle referenti del progetto le professoresse Luigia Giunta e Giuseppina Lavail oggi qua vedremo vedrete appunto da una parte ci saranno i Welfi e i Ghibellini le due fazioni contrapposte Impero e Pavato che prima della nascita delle signorie si contendevano e mettevano in atto delle guerre i bambini i bambini sono vestiti sono preparati a un percorso che dura due anni proprio da quando la dirigente nella nostra scuola e che vede proprio questi bambini come ha detto Pocanzi dei protagonisti attivi accompagnati dalle famiglie che ci seguono anche nei tornei provinciali e regionali che noi appunto discutiamo nelle varie città della Sicilia un'iniziativa che si ripeterà nel mese di maggio e che è stata accolta con grande entusiasmo non solo dai più piccoli ma anche dai loro genitori è una grande emozione accompagnare i propri figli e vederli giocare è un'esperienza bellissima questo è gli scacchi sviluppa la mente è una bella esperienza ultimo appuntamento con la rassegna viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela col patrocinio della regione del comune e del museo domani alle 19 nei locali del museo archeologico regionale recital del chitarrista Massimo Martinez appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film ti amo presidente sono due gli orari 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito